Pierpaolo, ti ordino di raccontarmi la notte di noce, dai. Io non ce la faccio, Pippo, scusami. No, vabbè, non importa. Vediamo il filmato. Dai, Pierpaolo, non ne farà una tragedia, dai, almeno tu. Forse è stato lo champagne. Sì, sì, certo, lo champagne. Ho detto forse. Oggi è stato lo champagne. Sabato ti ha fatto male la macchina, poi lo stress, il freddo. E poi? È un periodo un po' particolare per me. Ma che periodo, Pierpaolo, sono due anni. E in due anni, una volta sola, almeno una, dai. Forse è un meglio, sai, due volte è un po' particolare. Amore, ho letto che in America... Sì, a Disneyland. No, no. Stardinario, straordinario. Buonanotte, sì. Grande, allora. Bopo, bopo. Stardinario, che sei? A Disneyland, no, vi prego, no. E domani c'è il viaggio di nozze. E domani c'è il viaggio di nozze. E io ho offerto a questi ragazzi una splendida crociera. Una splendida crociera nei Caraibi a bordo della Raffaele Cutolo, enorme transatlantico. C'era una doppia, ma come fai che è in viaggio di nozze? E però io voglio che questi ragazzi continuino a sognare, soprattutto Tiziana. Perché il matrimonio è un bel sogno e non voglio che si spezzi. Ed ecco che, Pierpaolo, dobbiamo fare qualcosa per Tiziana. Dobbiamo farla continuare a sognare. E allora quella doppia sul transatlantico diventa una tripla! Cirilla! Cirilla Vandilla! Grazie! Cirilla Vandilla! Bravi, ciao, ciao! Stardinario, un applauso! Corri, che quelli se ne vanno, corri! Grazie! Grazie, grazie! Vi vai gli sposi! Vi vai gli sposi!